Il mio nemico ha trovato il contenitore di borizio. Il mio nemico ha trovato il contenitore di borizio. Il mio nemico ha trovato il contenitore di borizio. Il mio nemico ha trovato il contenitore di borizio. ADD attivo. Diamo spettacolo. SCAMPIO CARICATORE! SCAMPIO CARICATORE! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ultimo nemico rimasto. Vittoria alla difesa. Nemici eliminati.